Salve a tutti e bentornati ad un'altra puntata del commento spoileroso della seconda stagione di Miraculous e io sono sempre OrkProf e quest'oggi parleremo, come vedete dalla scritta qua a fianco, della trilogia, quella che doveva essere originariamente la trilogia La Battaglia delle Regine e che poi è stata separata nei due episodi Style Queen e Queen Wasp che sono andati a formare La Battaglia delle Regine e Maledictor che è il finale. C'è stato anche un po' di confusione durante la messa in onda perché gli episodi, come forse già saprete, di questa seconda stagione, oltre che uscire molto lentamente, molto fatica, ce li fanno proprio sudare, però con una buona ragione perché in molti casi hanno dichiarato che sono dovuti andare a rimettere mano agli episodi, non erano soddisfatti della qualità dell'animazione, di molte cose, quindi va benissimo così. Dicevo, la messa in onda di questi tre episodi è stata un po' travagliata perché, dato che i vari episodi di questa seconda stagione vengono proposti in Prima Mondiale di volta in volta da reti televisive di paesi diversi e quindi una volta il Portogallo è il primo a mandare in onda l'episodio, che ne so, dieci. Dopodiché l'episodio undici va in onda per la prima volta invece in Inghilterra e poi tocca la Francia e poi la Spagna o il Brasile. Insomma, quelli di voi che saranno riusciti a seguire queste puntate dal web si saranno accorti che di volta in volta gli toccava guardarsele o in lingue completamente diverse o aspettare ancora di più perché uscisse, per grazia di qualcuno da qualche parte d'Italia, la versione sabbata. Il grosso problema c'è stato quando Maledictor stava per essere messo in onda forse è stato effettivamente messo in onda, non ho ben seguito quella parte lì perché ho tentato di evitarmi gli spoiler ma stava per essere messo in onda prima di Queen Wasp, che era la seconda parte della Battaglia delle Regine e Thomas Struck su Twitter ha scritto proprio guardate, non ho idea di che cavolo stiano facendo le reti televisive noi chiaramente ci limitiamo a scrivere l'episodio, a produrlo, a fare tutto quanto, impacchettarlo poi lo mandiamo fuori e da lì in poi tocca le reti televisive, tocca i distributori io ho nella forza, nella voglia di stare dietro anche a quella parte di tutto il processo e come si può dargli torto? Sicuramente già il fare il cartone di per sé deve essere un lavoro massacrante loro poi a quanto pare ci stanno mettendo un certo impegno per cui e in ogni caso lui ha detto voi ovviamente fate come volete però io vi consiglierei di evitarvi gli spoiler e soprattutto guardarvi gli episodi in questo preciso ordine che sta il Queen, Queen Wasp e Maledictor perché altrimenti la storia che vedrete non avrà granché senso e questa tra l'altro è un'eccezione all'interno di Miraculous perché normalmente sia nella prima che nella seconda serie non c'è un ordine preciso degli episodi nella prima serie ci sono i due episodi finali delle origini che ovviamente saranno collocati al primo posto anche se vennero mostrati per ultimi l'episodio di Volpina che è il finale di stagione ufficiale infatti da lì in poi riprende la seconda stagione proprio si riaggancia l'episodio di Volpina e l'episodio del collezionista sono praticamente attaccati e poi quest'altro caso la trilogia delle regine continua a chiamare la trilogia La battaglia delle regine e Maledictor che comunque avvengono prima di Catalyst e Maiura ma dopo gli episodi in cui sono comparsi invece Renna Rouge e Carapaz gli altri due nuovi eroi e lo capiremo un po' più avanti durante il corso di questo video arriverà la scena in cui vi spiegherò anche questo ma veniamo all'episodio in sé questi tre episodi sono la parte conclusiva di quello che è stato definito più volte dai fan l'arco narrativo di redenzione di Chloé tra la prima e la seconda stagione tra i mille e mila spoiler che erano usciti dei nuovi episodi ormai Mari e Monti, Cani e Porci sapevano che Chloé Bourgeois la perfida Chloé Bourgeois avrebbe ricevuto un Miraculous altre persone lo avrebbero ricevuto c'erano dei sospetti più o meno palesi ma nel caso di Chloé era veramente quello più telefonato perché c'erano proprio dei poster delle immagini, delle splash page delle illustrazioni e un moscerino che continua a farmi avanti e indietro sulla faccia che la mostravano riconoscibilissima seppure in costume con la mascherina ovviamente noi non viviamo nell'universo di Miraculous e non basta una mascherina con tornocchi a impedirci di riconoscere una persona quella era chiaramente Chloé Bourgeois e tutti a chiedersi ma come è possibile che questa qua riceva un Miraculous ma non ci voglio credere Chloé stava sulle scatole a tutti credo allora non c'era eccezione giusto quando arrivò Lila le fece un po' di concorrenza da quel punto di vista però in realtà era giudicare da quello che leggevo su Amino o su altri social era ancora abbastanza c'era qualcuno che in qualche modo l'apprezzava Lila Chloé e la odiavano tutti e Astruc io ricordo di aver visto un tweet di Astruc che diceva le persone cattive non riceveranno mai un Miraculous e quindi chiedessi beh allora cosa vuol dire che questa non è Chloé che lo ricevano ma poi glielo tolgono boh e invece è partito quest'arco narrativo di redenzione del personaggio che era mirato appunto a renderla non completamente buona sarebbe stato anche abbastanza cioè come soluzione narrativa abbastanza pigra ecco improvvisamente questa è sempre stata cattiva boom buona no ci è voluto un pochettino per far accettare la cosa al pubblico io personalmente sono stato molto contento di come l'hanno sviluppata certo bisogna sempre ricordarsi di che tipo di cartone è che per quanto io ne vada pazzo riconosco che è principalmente pensato per un pubblico molto giovane per cui non è che ci siano sviluppi di trama così profondi però nel suo piccolo fa le cose per bene e Chloé non è diventata buona da un giorno all'altro ci sono voluti perlomeno 5 episodi ne ho contati non mi pare che ce ne fossero altri correggetemi se sbaglio se mi fossi dimenticato qualche episodio in cui veniva sviluppato un pochino di più il personaggio di Chloé scrivetemelo qua sotto nei commenti fatemelo pure notare che mi fa solo che bene ho provato a scorrere tutta la lista dai titoli non mi sembrava ci fosse altro tutto inizia nel secondo episodio della seconda stagione quello che in italiano è stato se non sbaglio tradotto orsaccio Doudou Villain in francese e in inglese era non me lo ricordo più comunque sì non è importante e qui noi scopriamo qualche cosa di più su Chloé sulla sua famiglia sulla sua vita fino a quell'omento lei era stato un personaggio molto piatto lei era semplicemente la rivale di Marinette ricca altezzosa cattiva che si approfittava degli altri viziata e basta adesso invece in quella puntata nella puntata di orsaccio scopriamo che sua mamma se n'è andata quando lei era molto piccola ed è in pratica stata cresciuta neanche tanto dal padre ma dal maggiordomo questo povero uomo di cui lei non si ricorda assolutamente il nome si chiama Jean Qualcosa la prima parte sembrerebbe essere sicura ma la seconda parte cambia di volta in volta e vediamo appunto questo brevissimo flashback questo ricordo di lei da bambina che vede la madre andarsene e riceve con una valigia e lì tutti abbiamo pensato che la madre l'avesse abbandonata invece nell'episodio il primo episodio della battaglia delle regine scopriamo che non è esattamente così comunque lì per lì scopriamo che ha avuto un'infanzia in cui la madre perlomeno non era esattamente presente e lei è stata appunto l'amica di infanzia di Adriano in quell'episodio lei gelosa di Marinette per l'ennesima volta chiama la polizia e fa una telefonata anonima con il classico allarme bomba facendo punire tutta la scuola meno che sé perché chiama come si dice minaccia come al solito il preside di avvertire suo padre se anche lei fosse stata punita quindi viene punita tutti quanti vengono puniti tutti quanti tranne che lei complimenti tra l'altro al preside della scuola che ha anche velleità di supereroe si scopre poi in un'altra puntata in un'altra puntata non è sto grande spoiler quindi ve lo butto lì non è che si è tutto personaggione il preside e dunque dove siamo arrivati scusate ricontrollo i miei appunti ecco il momento importante perché ho fatto questa digressione fino all'episodio di Orsaccio perché qui quando quando Adrienne va da lei e la sgrida per la prima volta vediamo che le importa qualcosa fino a quel momento era stata affrontata da poche altre persone pochi altri hanno avuto il coraggio di discutere con lei ed erano Marinette e Alia e qui invece ovviamente lei non interessava niente le rispondeva per le rime o se non le veniva niente da rispondere se ne andava qui invece vediamo che quando Adrienne le dice se tu continua a comportarti così male con tutti mi spiace ma io non posso continuare a essere tuo amico lei ne risente questa cosa le importa dell'amicizia con Adrienne e quindi vediamo appunto poi il flashback a casa e capiamo quanto sia stato importante il maggiordomo nella sua vita nel finale lei ok spoiler attenzione avrei dovuto fare devo prendere l'abitudine di avvisare all'inizio del video anche se si chiama il commento spoileroso però non si sa mai spoiler nel finale di Orsaccio vi do il tempo di interrompere lei interviene e salva letteralmente Ladybug permettendole poi di sconfiggere il cattivo di turno dopodiché è ancora sempre la stessa estremamente piena di sé però intanto si è messa in moto questa macchina poi c'è l'episodio di Zombacino Zombie Zoo dove viene akumatizzata spoiler dove viene akumatizzata la professoressa Bustier e qui intanto è bello che finalmente anche i personaggi facciano notare quello che tutti noi fin dalla prima stagione abbiamo notato e cioè che metà o più delle akumatizzazioni di Parigi sono causate direttamente o indirettamente da Chloe Bourgeois infatti Alex in classe dice finalmente metà città è stata akumatizzata per causa sua tanto questo episodio è molto interessante anche perché la professoressa Bustier mostra in un primo momento di riuscire sebbene a fatica a resistere alla presa di Papillon però ci arriveremo quando poi faremo il commento a Zombacino anche questo episodio è importante perché pure qui Chloe si rende conto a un certo punto che tutti sono stati messi in pericolo per colpa sua e di nuovo aiuta Ladybug nel finale si sacrifica tra virgolette permettendo all'eroina di sconfiggere il cattivo di turno e alla fine dell'episodio ammette le sue colpe di fronte alla professoressa dice ammette ciò che ha fatto di aver sabotato il regalo di Marinette e quindi di aver causato tutto quanto e dice che no non dice ancora che le dispiace mi sembra non lo ammette ancora però intanto la vediamo abbracciata dalla professoressa Bustier e per un secondo prima che lei tenti di staccarsi vediamo una Chloe diversa vediamo una Chloe che riceve l'abbraccio che non ha mai ricevuto dalla madre e quindi per una frazione di secondo è una persona diversa poi torna a essere comunque se stessa però di nuovo questo è un altro step nella direzione che porterà poi alla tra virgolette redenzione di questo personaggio cioè a renderci anche un po' più accettabile per noi spettatori che questa riceva un cavolo di miracolosi veniamo a Style Queen l'episodio e qui vi faccio un commento un po' più dettagliato anche per chi magari non avesse visto l'episodio non avesse ancora avuto modo di scaricarlo di vederlo come in qualsiasi modo allora l'episodio si apre con un bel riferimento alla prima stagione perché Marinette sta finendo di mettere a posto quella bombetta fatta con le piume di piccione che aveva fatto nell'episodio di Mr. Piccione e tra l'altro ha avuto l'accortezza di cambiare le vere piume di piccione con piume sintetiche e qui c'è un'interessante differenza tra il doppiaggio inglese e quello francese perché nel doppiaggio francese che non è quello principale in realtà parte tutto dal doppiaggio inglese e poi vengono tradotti però a me piace per questione mia personale fare in genere riferimento a quello francese purtroppo stavolta in quello francese hanno cambiato questa battuta e Ticchi le dice hai fatto bene a mettere le piume finte perché se no avresti avuto problemi con l'associazione di protezione dei piccioni certo Ticchi ce ne preoccupiamo tutti quanti no in realtà ha molto più senso quello che le fanno dire nel doppiaggio inglese ossia hai fatto bene Marinette si preoccupava dice non è che si accorgeranno che sono piume sintetiche diranno che fa schifo questa cosa e lei dice no hai fatto benissimo Adrion che lo deve indossare allergico cosa fai gli fai mettere in testa una roba che lo fa stanutire in continuazione hai fatto una cosa normalissima e giusta e niente Marinette super insicura piena di mille dubbi perché deve portare questo cappello e farlo indossare ad Adrion durante una sfilata ufficiale e Ticchi che la incoraggia in più quando arriva sul posto al Grand Palais mi sembra scopre che parteciperà anche la madre di Chloé e lei non è preoccupata tanto perché si tratti della madre di Chloé quanto perché è Audrey Bourgeois una famosissima quanto cattivissima critica di moda proprietaria anche direttrice di una rivista intitolata proprio Style Queen Audrey non l'abbiamo mai vista perché vive sempre a New York quindi non ha abbandonato la figlia come qualcuno molti di noi avevano pensato dopo aver visto Orsaccio ma semplice cioè non l'ha abbandonata nel senso me ne vado di casa di fatto l'ha abbandonata perché questa bambina in realtà è cresciuta senza una madre Audrey vive in New York torna di tanto in tanto a Parigi ma molto probabilmente ci torna solo per questione di lavoro ed è sempre stata freddissima si capirà proprio avanti con la figlia non le ha mai dato alcun tipo di amore la vediamo poi interagire con il resto della sua famiglia lei è quella che va avanti e gli altri due andrè il padre di Chloé e Chloé stessa che la seguono come cagnolini lui il padre è completamente zerbino completamente succubo sia di lei che della figlia la figlia che vive letteralmente all'ombra della madre la segue e la imita in ogni in ogni gesto anche abbastanza goffamente però cercando proprio di essere lei evidentemente nella speranza di attirare la sua attenzione ed essere considerata comunque sia facciamo la conoscenza di Audrey Bourgeois una donna terribile che come scende dalla macchina inizia a licenziare gente a caso che non è assolutamente alle sue dipendenze come il gorilla di Adrien che era l'autista che li aveva accompagnati lì e il poliziotto Roger che è il padre di Sabrina che viene lì che lei tenta di licenziare perché non le piace qualche cosa del tappito rosso che è steso per terra mentre lui è lì a fare servizio d'ordine e appunto è non ricorda oltre al a non ricordare mai il compleanno di Chloe questa è una cosa che ho dimenticato di dire ma ci veniva svelata in Zombacino da Sabrina Sabrina si lasciava sfuggire che la madre di Chloe non ricorda mai il compleanno della figlia in aggiunta a questo ricorda a malapena i nomi del marito e della figlia quindi esattamente come Chloe continuava a sbagliare in perterrita il nome del maggiordomo Audrey Bourgeois deve sempre fare almeno due tentativi quasi come noi quando inseriamo una chiavetta USB nel computer per indovinare il nome del marito e della figlia li chiamo in tutti i modi e Chloe in particolare si becca della Claudia Cleopatra Claudette Claudin e chi più è una più ne metta e quindi Audrey Bourgeois arriva viene interessata da Nadia Shamac che ovviamente si prende anche lei a buona dose di insulti perché è vestita da poraccia poverina e la povera Chloe tenta di fare un regalo alla madre la quale non lo degna cioè lo degna di mezzo sguardo neanche ma se ne va schifata perché non le piace la carta regalo e tenta di licenziare la figlia c'ha proprio questo licenziato sulla lingua che parte in automatico il padre è anche imbarazzatissimo di fronte alle telecamere e cerca di ricordarle che quella è sua figlia e quindi non la può licenziare non ha neanche senso la frase ti licenziare è tua figlia ma vabbè dopodiché trotterello lei se ne va e gli altri due le trotterellano dietro come due bravi cagnolini Marinette chiaramente se già prima era timorosa di partecipare alla sfilata ora pensa solo a darsi la gambe perché se c'è anche Audrey Bourgeois non c'è scampo teme di venire distrutta dalla critica ma sopraggiunge nel frattempo Natalie Sanker l'assistente di Gabriel che la branca la fa andare entrare dentro qui c'è un piccolo incidente Marinette cade le cade il pacco con dentro la bombetta che ovviamente rotola fino ai piedi di Audrey Bourgeois Chloe se la gongola sperando che già sperando già che la madre inizia a distruggere la non fisicamente strappandolo però a criticare l'opera della rivale ma non fa in tempo dire niente che appunto risopraggiunge Natalie Marinette si riprende il cappello e scappa poi 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 ecco finalmente vediamo Adrian che è nel suo camerino e poco prima che arriva Marinette ci rendiamo conto che indossa un vestito da anziano non lo so lui dovrà sfilare io non mi intendo di moda sicuramente Gabriella Greste se ne intende di più ma sta mandando il figlio a sfilare con una bombetta fatta di piume di piccione e un completo non gessato perché il gessato è quello a righe lui ha questo completo a righine tipo a scacchi però non a scacchi con le righe piene sono proprio delle righe come i quasi come non come i kit scozzesi ricorda un tweed comunque è una roba che avrei visto bene addosso a mio nonno e non un ragazzino di 14 anni ma vabbè comunque sia anche anche Adrian cerca di incoraggiarla di non aver paura che il suo cappello è bellissimo e così via arriviamo nella sala delle sfilate dove vediamo tutto il pubblico con un po' di personaggi a noi familiari da un lato ci sono la famiglia di Marinette Alia e tutti gli altri loro compagni di scuola dall'altro lato ci sono in realtà delle comparse sono tutti personaggi che riconosciamo come appunto Alec il presentatore di Kids TV si chiamava il canale televisivo con Mireille e quella che inizia il concorso al posto di Aurora Boreal ossia Tempestosa questi due tra l'altro si vedono spesso insieme come comparse se non fosse che sono soltanto delle comparse non sono veramente loro ossia vengono presi questi personaggi e messi sullo sfondo come riempimento per non dover dover creare nuovi modelli e quindi sprecare altro tempo fare altro lavoro non sono veramente loro ma mi preoccuperei perché questo qui continua ad andare in giro con questa ragazzina che in teoria non dovrebbe cioè dovrebbe conoscere solo di vista vabbè chiusa parentesi poi vediamo il cantante Jugged Stone non mi veniva scusate il nome con la sua assistente Penny Stone no con la sua assistente Penny Penny Rolling anche qui c'è il gioco di parole tra i nomi dei due il produttore di Jugged Stone che si vede tra l'altro in un'inquadratura a un certo punto di nuovo sullo sfondo con una faccia come se si fosse fumato l'impossibile perché è tipo così mentre fissa Natalie e Audrey che stanno parlando però appunto anche lui è lì sullo sfondo così come il fotografo Stalker che stalkerava Jugged Stone nella prima stagione il mago Simon o Jacques Cadine nella versione francese e Lila questo è l'esempio Lila è la presenza di Lila è l'esempio ancor più lampante di come questi personaggi siano presi abbastanza a caso infatti non doveva proprio essere lì ha dichiarato a Struck la presenza di Lila tra il pubblico mentre gli altri sono sullo sfondo e si può trovare una scusa perché fossero lì Lila non ci doveva essere Lila come si vedrà nell'episodio poi meglio che non lo dico perché magari qualcuno non si è visto il video di commento a Catalyst perché non ha ancora visto Catalyst e invece si è visto la battaglia delle regine e sta guardando questo vi rinvio all'altro video comunque sia il piano di Gabriel è quello che lui definisce il suo capolavoro questo dovrà essere la sua ultima comatizzazione ormai Gabriel è sempre più scoraggiato da tutti i continui fallimenti e sta pensando di mollare o meglio questo non si capisce ancora si capirà dopo però si capisce fin da subito che questo deve essere il piano finale per lui non può non funzionare il piano consiste appunto nell'organizzare questa intera sfilata per poter attrarre Audrey Bourgeois che lui considera una persona veramente veramente valvagia detto da lui e manda Natalie a dire a Audrey che sì c'è un posto per lei naturalmente ma in seconda fila in mezzo alla gente qualunque questa cosa la fa andare in bestia perché lei appunto è abituata ad avere sempre tutti ai suoi piedi ad avere sempre il meglio non ha mai assistito ad una sfilata ad una fila che non fosse la prima fila e già le dava fastidio di doversi sedere di fianco ai genitori di Marinette che per lei sono due plebei sconosciuti e niente appunto arriva Natalie e dice ho seconda fila o niente se non vuoi il tuo posto lo diamo a qualcun altro lei tenta di licenziarla Natalie le ricorda che non lavora per lei Audrey cerca di chiamare Gabriel e noi troviamo Gabriel che ignora bellamente la chiamata di Audrey perché si trova di fronte alla moglie il cui corpo è in questo cilindro che che somiglia a un qualche macchinario per la criogenesi non si capisce però non viene detto se la moglie sia deceduta e quel macchinario serve solo a conservare il corpo oppure se sia in qualche tipo di coma e quindi congelata sotto criogenesi in attesa che si trovi l'eventuale cura a chissà che cosa che l'affligge non è chiarissimo comunque di fronte a lei Gabriel ripete che questa è la sua capolavoro questa questa akumatizzazione sarà quella definitiva dopodiché potrà adempiere la sua promessa e riportarla tra noi non si sa se invita o appunto tirarla fuori dal coma Audrey incavoratissima se ne va viene raggiunta dall'acuma e diventa style queen una creatura apparentemente fatta da capo a piedi di paillettes dorate di glitter dorati questo si ricollega a quello che Audrey in questa puntata poco prima aveva detto a Nadia Shamak durante l'intervista che Nadia aveva chiesto che cosa andrà di moda quest'anno e aveva detto le paillette i brillantini gettando nel barico marinette che era ria ad ascoltare e si rendeva conto che non aveva messo brillantini sul suo cappello vabbè questo la rende un avversario temibile perché come scopre Ladybug appena arriva e tenta di attaccarla non c'è verso di ferirla o di catturarla con l'Oyo-yo perché qualsiasi attacco passa attraverso i lustrini passa attraverso i glitter di cui è fatto il suo corpo il quale si buca o si apre ma poi si ricompone perfettamente quindi non può essere ferita non può essere bloccata anche perché è in grado di teletrasportarsi trasformandosi in una nube di glitter dorati che può spostarsi anche molto velocemente e niente arriva sul posto cercando Gabriele Agreste perché voleva vendicarsi di lui e dell'offesa subita trova soltanto Adrienne il quale viene trasformato Adrienne scusate che viene trasformato in una stato dorata nella disperazione del povero Papillon che ovviamente stava osservando con il suo legame mentale e capiamo che questa parte non era stata assolutamente prevista Papillon fa un sacco di errori tra la prima e poi anche tra la prima e la seconda serie ma soprattutto nella seconda fa un sacco di errori di questo tipo ne avevamo già visto uno in un'altra puntata della seconda serie molto importante su cui appunto non faccio spoiler ne parlo nel video poi dedicato ne commette un altro qui e secondo me ne stava per commettere un altro più avanti in Maledictor ma lo vedremo dopo ad ogni modo dice ormai siamo in ballo dobbiamo ballare e dice stai qui sbrigati a trovare le debugge e scianoare sconfiggili e non vede l'ora di riavere indietro suo figlio tra l'altro in generale lui sembra molto preoccupato di non mettere in pericolo Adrion ma già dalla prima serie lui continua ad inviare le acu ma spesso e volentieri in luoghi dove sa che suo figlio è lì o perlomeno nei paraggi quindi vabbè se a piacerebbe fare un discorsetto a Gabriele dire esattamente scusami ma come pensavi di evitare qui e qui il problema e dopo aver trasformato Adrion Audrey trasforma anche un po' di altre persone che nel frattempo cercano di scappare a quanto pare nonostante tutte le acumatizzazioni che ci sono state in questa cavolo di città qualcuno ancora fatica a riconosce perché il padre di Marinette quando compare Stile Queen dice sta cosa stupidissima si gira verso la moglie e fa è normale questa cosa Adrion è stato ancora trasformato è normale questa cosa ma sai non sono mai stata ad una sfilata di moda ma sei scemo o cosa questa si è presentata se non sbaglio proprio teletrasportandosi sul palco in una nuvola di glitter e sta chiaramente minacciando la gente quindi avrei visto centinaia di questi tizi mascherati comunque trasformati strani con dei poteri tu lo vedi e dici ma è normale questa cosa qui è l'unico forse è l'unico in tutta la folla che fa sta faccia qua mentre tutti gli altri guardano e dicono cavoli ci risiamo e vabbè comunque tutti scappano Audrey trasforma qua e là un paio di persone tra cui anche il marito sta per trasformare anche Chloe ma Chloe riesce a convincerla e qui si dimostra brava in realtà a parlare con le persone a dire loro quello che vogliono sentirsi dire per guadagnare tempo tenerle buone e permettere poi ad altri di intervenire infatti la non solo evita di essere trasformata lei stessa ma poi quando Ladybug interviene e sta per essere sconfitta perché i raggi di Style Queen sono abbastanza difficili da da evitare lei ci riesce però si vedrà poi in una scena successiva che ha un fiatone che non l'abbiamo mai visto avere contro altri akumizzati e sono anche troppo forti da incassare Ladybug tenta di pararne uno facendo roteare lo yo-yo il raggio non ha effetto su di lei quindi viene parato ma la respinge indietro e la butta per terra e Style Queen sta per trasformarla di nuovo Chloe interviene per l'ennesima volta in questa seconda stagione le salva la vita convincendo Style Queen a lasciar perdere ad andare a cercare Gabriella Greste che è l'oggetto del suo odio nel frattempo Ladybug cerca di contattare Chanua che ovviamente per ogni ragione non può rispondere insegue ah scusate un piccolo passo indietro mi sono accorto di aver dimenticato di menzionare una cosa importante durante il confronto fra Nathalie e Audrey quando Nathalie fa incavolare apposta Audrey Bourgeois dice una cosa molto importante dice senza di me Gabriella Greste sarebbe ancora in quel suo buco di studio a fare dei disegni ridicoli e cercare inutilmente di sfondare quindi capiamo che a scoprire artisticamente il futuro grande stilista Gabriella Greste è stata Audrey Bourgeois e qui viene da farsi due domande quali sono esattamente i rapporti tra la famiglia Bourgeois e la famiglia Greste non è una domanda da niente perché già in un altro episodio avevamo scoperto che c'era un collegamento tra un A punto o una A punto Bourgeois e la madre di Adrion di nuovo cerco di non fare spoiler mi sto trattenendo ne parlerò poi nel video dell'episodio dedicato però sia il padre che la madre di Chloe fanno A il nome sia del padre che della madre inizia per A uno si chiama André e l'altro a Audrey quindi uno dei due aveva un qualche legame nel passato con la madre di Adrion e ora scopriamo Audrey Bourgeois ha scoperto Gabriella Greste ha lanciato la sua carriera di stilista quindi a me interesserà interessa molto sapere anche quali sono i rapporti fra le due famiglie prima di essere semplicemente i genitori di due bambini Chloe e Adrion che sono stati amici di infanzia cosa è successo ancora prima e chissà se lo veremo a sapere nella terza serie o forse addirittura nella quarta comunque rifacciamo un saltono in avanti torniamo a Ladybug che sta inseguendo Stile Queen nella quale prima si reca a Villagrest e non trova ovviamente Gabrielle perché si trova nel suo rifugio sotterraneo o in soffitta non si è mai capito bene sta cosa perché lui va giù nella botola segreta e poi si ritrova e poi esce da un'altra botola segreta in un'altra stanza dal pavimento comunque se non lo trova viene convinta da Papillon ad andarlo a cercare la Torre Eiffel non a cercare la Torre Eiffel a spostarsi la Torre Eiffel per combattere i due eroi sconfiggerli e far così uscire allo scoperto Gabrielle e qui vediamo come Gabrielle probabilmente ha pensato nei minimi dettagli questo piano perché non solo ha dato a questo villain i poteri che gli ha dato sia un corpo che non può essere bloccato né ferito velocità potenza una sorta di teletrasporto non è esattamente teletrasporto però insomma si può spostare molto velocemente Style Queen ricrea la statua di Adrian non ho detto prima lei l'ha assorbita all'interno del suo bastone la ricrea sulla Torre Eiffel su una sorta di catafalco di sarcofago e gli mette in bocca la rosa che Audrey aveva sul suo cappello prima di venire acumizzata e dentro al quale si trova l'acuma e poi rinchiude il tutto sotto un campo di forza dorato apparentemente impenetrabile questo dubito che sia stata tutta farina del sacco di Audrey se Gabriel continuava a ripetere che questa sarebbe stata la sua opera maestra e il suo capolavoro in fatto di acumatizzazioni evidentemente ha pensato nei minimi dettagli anche questo e avrà comunicato mentalmente a Audrey fai questo e fai quest'altro Ladybug arriva cerca di di infiltrarsi di sgattaiolare non vista e Chloe cerca di fare la sua parte aiutandola ma vengono scoperte e anche Chloe viene trasformata Marinette Ladybug tenta di affrontare per l'inesima volta Style Queen senza poterla ferire lancia il suo Lucky Charm il quale le indica di andare dal Maestro Fu e quindi va dal Maestro Fu dove trova anche Plug e le viene raccontato ovviamente non potendole dire la verità lei gli ha raccontato che Chat Noir ha perso temporaneamente l'anello non lo trova e quindi non si può trasformare per cui Plug se n'è andato lì dal Maestro lei dovrà arrangiarsi con l'aiuto di qualcun altro inizialmente Plug tenta di intervenire e di dire adesso vado io e l'aiuto io quindi Quamin non sono affatto cioè sono dei cosini carini ma non sono solo questo possono essere anche di aiuto pratico ma il Maestro Fu gli dice no assolutamente tu non te ne puoi andare in giro da solo senza il tuo portatore se è troppo pericoloso e qui c'è una bella scenetta che a me ha divertito personalmente molto dove il Maestro Fu gli elenca tutta una serie di situazioni storiche o pseudo storiche nelle quali lui avrebbe combinato dei disastri dice per esempio devo ricordarti cosa è successo ad Atlantide quando ha fondata Plug tenta di svicolare avevo mangiato troppo formaggio dice perlomeno nella versione francese la torre di Pisa e qui tra l'altro passiamo da una catastrofe continentale un affondamento di un continente mitologico ma comunque un intero continente a una torre che è stata costruita in realtà se hanno sbaglio sul terreno sbagliato hanno sbagliato qualcosa delle fondamenta non mi ricordo e lì Plug si giustifica e si è messa sulla mia strada la torre l'avrò urtata per sbaglio e poi la parte più che è la battuta più carina secondo me è i dinosauri quando si sono estinti e lui va bene va bene a mia discolpa ero ancora molto giovane questa è stata mi ha distrutto lo so che è una cavolata però è stato un bel momento che mi ha fatto ridere e niente comunque si a Plug viene impedito di andare personalmente ad aiutare Ladybug e a lei invece viene offerto un altro Miraculous e qui capiamo che Marinette deve aver speso un po' di tempo col maestro a farsi spiegare un po' di cose perché nello scegliere il pettine dell'ape il Miraculous dell'ape a forma di pettine lei sa già qual è il potere di chi lo indosserà lei dice mi serve qualcuno che sia in grado di paralizzare il mio nemico quindi lui deve averle spiegato un po' il potere dietro agli altri Miraculous quindi anche quando ha scelto quello di Reina Rouge sapeva che aveva gli stessi poteri di Volpina e idem per questo qua per il Miraculous dell'ape lo prende e capiamo che lei aveva originariamente intenzione di darlo ad Alia Alia come sempre va a caccia di guai e ha seguito Style Queen sulla Torre Eiffel col suo cellulare per fare il suo solito scoop per il Ladyblog mentre Marinette sta per darle il Miraculous interviene Style Queen cerca di colpirla e Alia nel tentativo di salvarla viene trasformata lei in una stato dorata il Miraculous dell'ape sfugge di mano alla scatolina quel Miraculous sfugge di mano al Ladybug e casca a diversi piani di sotto in quel momento lei ovviamente non ha il tempo di buttarsi giù e andarlo a cercare visto che ha le calcagna uno dei villain più potenti che abbia mai affrontato e quindi è costretta ad evocare un altro Lucky Charm che si rivela essere un tubetto di colla ora facciamo una piccola pausa io ho sempre avuto una mia teoria su Lucky Charm e su come funzioni avevo fatto un post su Amino dove mi ero divertito a ipotizzare analizzando gli vecchi episodi della prima serie come cavolo funzionasse se ci fosse dietro una qualche regola oppure no ovviamente tutta una roba immaginata da me non credo che ci sia niente di ufficiale dietro però prima o poi ci farò su un video ma secondo me qui viene un po' confermata io sono dell'opinione che il Lucky Charm una volta lanciato basta è finita non viene messa in moto una catena di eventi che porta a ciò per cui il Lucky Charm è stato creato e non può essere fermata questa catena di eventi è fissa il Lucky Charm in qualche modo prevede quale sarà il futuro o sa già come si comporteranno le persone o gli oggetti dove cadrà quel tale oggetto lo spiegherò poi più dettagliatamente in un video dedicato per cui se adesso viene data a Ladybug quest'arma della colla che si dimostra efficace contro Style Queen perché lei spande questa colla su una bandiera che stava lì appesa sul lato della Torre Eiffel colpisce diverse volte Style Queen con la bandiera tutta piena di colla e riesce effettivamente a strapparle alcuni glitter del corpo che restano sulla bandiera Style Queen si ritrova con praticamente un buco qua sul fianco e questo le provoca anche dolore quindi sembra un'arma abbastanza efficace perché il Lucky Charm non l'ha tirata fuori la prima volta secondo me è perché il Lucky Charm voleva che venisse messa in moto la catena di eventi che avrebbe fatto perdere il Miraculous dell'ape a Ladybug e farlo poi cadere nelle mani di Chloe Bourgeois anche perché vediamo che sì con questo tipo di arma Ladybug riesce a ferire Style Queen ma Style Queen si incavola la colpisce sempre più velocemente fino a disarmarla e Ladybug si ritrova di nuovo per terra che sta per essere sconfitta e trasformata in una stato dorata questo Lucky Charm era servito soltanto a guadagnare un po' di tempo per mettere a Plug di arrivare sul posto Plug che probabilmente avrà deciso come il suo solito di disobbedire alle regole perché è proprio l'opposto in questo di Ticchi Ticchi non ti permetterebbe mai di sgarrare ma manco passare un attimo con Rosso a piedi in una strada completamente deserta e Plug probabilmente avrà detto sì 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 ok non vado e poi appena quello si è girato si è distratto è andato quindi questo Lucky Charm secondo me serviva solo a guadagnare tempo arriva Plug e abbiamo un assaggio di quello che è il suo potere distruttivo se pensavate che il cataclisma di Chat Noir fosse un'arma potente aspettate di vedere Plug in azione perché Plug sfiora appena il pavimento del piano della Torre Eiffel sul quale loro si trovano e l'intera torre inizia a tremare travi di ferro che cadono ovunque il campo di forza di Style Queen Siro che proteggeva il corpo di Adriana e la Rosa con l'acuma dentro inizia a creparsi e iniziano poi a diffondersi anche dalla Torre Eiffel delle crepe nel terreno in tutta la città un ponte inizia quasi a sgretolarsi eppure un palazzo niente di intorni ed è chiaro che il piccolo Plug si è trattenuto perché ha appena sfiorato la Torre quindi pensate a cosa potrebbe fare questo esserino che è appunto l'incarnazione della forza distruttrice della natura se non addirittura del cosmo comunque sia grazie all'intervento di Plug Lady Bagrescia rompere il campo di forza recuperare la Rosa con dentro l'acuma e romperla e a quel punto è fatta sta in cui viene sconfitta e si ritrasforma in Audrey Bourgeois che prontamente tenta subito di licenziare i poveri Adrian e Chloé che sono accorsi per cercare di aiutarla a rialzarsi vabbè e qui c'è una scena che io ho trovato abbastanza triste se la si guarda in una certa ottica perché tutti quanti poi se ne vanno Lady Bag riaccompagna Adriana alla sfilata mentre Chloé e la madre se la devono fare a piedi perché quanto pare l'ascensore della Torre Eiffel è rotta non si capisce bene devono farsela a piedi della cima fino a terra e lungo la strada lungo la strada sì Chloé continua a parlare a raffica a mitraglietta dicendo alla madre cercando di convincere la madre che hanno passato dei bei momenti insieme e si sono divertite tantissimo sapete che gli akumatizzati una volta che vengono liberati non si ricordano più un tubo di quello che è successo dal momento dell'akumatizzazione in poi e quindi tenta di convincerla che sono state bene insieme e si sono divertite questa poveretta non ha mai ricevuto un abbraccio un bacio un ti voglio bene dalla madre sta tentando disperatamente di approfittare di questa sua temporanea mancanza di memoria per avvicinarsi a lei inutilmente perché a lei alla madre non interessa altro che tornare alla sfilata non si capisce bene perché visto che se n'era andata via incavolata convinta che le fosse stato che fosse stata insultata oltre ogni dire però ci tiene a tornare a questa cavolo di sfilata lungo la strada che porta alla vase della torre chloe si imbatte nello scatolino contenente il pettine dell'ape e lo prende e qui c'è una scena finale che contrasta un po' con l'episodio successivo qui tutti stanno la giornata non è ancora finita stanno tutti tornando lo dicono anche esplicitamente alla sfilata adriano stesso si preoccupa di non fare in tempo a tornare lì e per questo Ladybug gli dà un passaggio trasportandolo lei fino al Grand Palais ma la puntata finisce con Chloé che è a casa sua nella sua suite d'albergo la luce che si vede nell'esterno all'esterno dell'albergo è chiaramente un po' più arancione quindi è chiaro che il sole sta per tramontare o perlomeno è tardo pomeriggio mentre prima c'era una luce bella bella splendente di pieno giorno e lei apre lo scatolino esce fuori i pollen che le dice ai vostri ordini maestà o qualcosa del genere non so in italiano come è stato tradotto questa cosa non ha molto senso perché lei la madre Adrion tutti quanti tornano immediatamente al Grand Palais per riprendere la sfilata la stessa Marinette quando si accorge di aver perso non quando si accorge di aver perso perché lo sapeva quando si accorge che le coccinelle magiche di quando il Lucky Charm viene poi lanciato la seconda volta per ripulire tutto hanno messo a posto tutto quanto anche la distruzione causata da Plug ma non hanno riportato non so perché lo scatolino col Miraculous dell'ape dal maestro Fu tenta di tornare di correre di nuovo alla Torre Eiffel ma viene bloccata dal padre che dice dai su torniamo dentro a goderci la sfilata e quindi non fa in tempo di andare a recuperare cosa che causa la perdita del Miraculous il quale cade nelle mani di Chloe quindi tutti stanno andando al Grand Palais Chloe è a casa sua e per la prima volta ha però scatolino in contrapolle questa è una piccola incongruenza però però si potrebbe sempre pensare che boh sia tornata velocemente a casa non a cambiarsi perché come in molti altri cartoni i personaggi hanno sempre tutti gli stessi vestiti però boh sarà tornata un attimo per buttarsi 5 minuti sul letto riposarsi e poi si è fatta portare in elicottero in limousine di nuovo non si sa comunque è un problema da niente mi viene da chiedermi solo una cosa prima di passare a commentare anche Queen Wasp cosa sarebbe successo se Chat Noir fosse stato presente se perché chiaramente non era nei piani di di Gabriel che Adrion venisse trasformato in una statua di dorata anzi ci rimane malissimo quando questo succede si accorge che non ha fatto in tempo a proteggere suo figlio lui ha sotto controllo mentale più o meno questa persona e non è riuscito a impedirle di trasformare il figlio in una statua quindi non era sicuramente nei suoi piani per cui come sarebbe andata se Chat Noir fosse stato presente avrebbe potuto benissimo rompere lui la la cupola il campo di forza dentro al quale Audrey avrebbe quasi sicuramente nascosto in ogni caso la rosa contenente la propria acqua perché quello era chiaramente il piano pensato da Gabriel se l'acqua non può essere raggiunta e distrutta il mio il mio villain il mio super cattivo è invincibile soprattutto se è fatto di paglietta non lo puoi colpire non lo puoi bloccare quindi sarebbe bastato che Ladybug avesse distratto per qualche secondo Style Queen Chat Noir avrebbe distrutto il campo di forza la rosa dopodiché in genere una volta che l'acuma esce dall'oggetto il cattivo di turno l'acumatizzato di turno non si trasforma immediatamente però cade per terra in ginocchio apparentemente depotenziato comunque smette di attaccare non si sa se cade in uno stato di confusione o se semplicemente perda le forze e perda i poteri non è chiarissimo quindi gli è andata anche bene a Papillon col seno di poi perché appunto o Chat Noir avrebbe avuto la solita sfiga e sarebbe stato comunque immediatamente trasformato in stato dorata però a quel punto sarebbe stato anche peggio perché Plug sarebbe stato bloccato nell'anello insieme a uno Chat Noir trasformato e quindi si avrebbero dovuto veramente tentare il tutto per tutto e fare immobilizzare Style Queen da Queen B comunque sia chiusa parentesi questo era Style Queen il primo dei due episodi che formano la coppia della battaglia della regine subito dopo attaccato a questo c'è l'episodio di Queen Wasp il quale inizia dove finisce Style Queen e inizia se non sbaglio proprio nel sotterraneo dove Gabriel tiene il corpo di Emily Gabriel tristissimo con un'aria sconfitta di chi non ce la fa più qui veramente è un'altra persona finora l'abbiamo visto freddo impassibile col figlio nei suoi abiti borghesi e malvagio manipolatore con un ghigno quasi satanico quando è nei panni di Papillon quando dice agli acumizzati quello che vogliono sentirsi dire per fomentare la loro rabbia o la loro tristezza ha proprio un ghigno cattivo in quei casi qui invece lo vediamo triste pieno di sconforto che sente di non essere riuscito a mantenere la promessa fatta alla moglie quale che essa sia ed è talmente stufo di questa cosa per di più appunto ha messo in pericolo per l'ennesima volta Adrione lui questa cosa non se la può perdonare e rinuncia a Nuru dice Nuru rinuncio a te si toglie il Miraculous Nuru ritorna dentro all'oggetto e Gabriel lo ripone in questa scatolina dopodiché lo vediamo tornare in casa e lasciarsi andare di nuovo distrutto pieno di sconforto sulla poltrona si leva gli occhiali in questo gesto che proprio ti fa quasi provare pena per lui nonostante tutto quello che abbia fatto finora Nathalie sta passando Nathalie scusate sta passando proprio lì di fronte si ferma si porta alle sue spalle e lo abbraccia molto teneramente boggiandogli la testa sul lato della propria e qui viene suggerito forse che c'è stato o c'è un qualche tipo di rapporto tra i due che non è soltanto professionale lei perlomeno lei sembrerebbe esserne innamorata o comunque sembrerebbe tenere particolarmente a lui molto di più di quanto si tiene al proprio capo lui non si sa potrebbe aver avuto potrebbe esserci stato qualcosa tra loro due dopo la scomparsa della moglie qualcosa che forse poi si è bloccato probabilmente per volere di lui che non se la sentiva sentiva di tradire la moglie anche se c'è qualche possibilità che sia morta però evidentemente io penso che sia andata così e lei comunque gli è rimasta a fianco anche perché per come la tratta lui normalmente non credo sia tanto innamorato ma per niente comunque sia dopodichè si torna alla sfilata e Gabrielle a sorpresa si presenta Gabrielle ci dice Nadia Shamak non si presentava non si mostrava in pubblico di persona da quando la moglie è scomparsa viene ancora usato questo termine quindi non non ci viene detto cosa cavolo sia successo a Emily e che cavolo sappia la gente perché non credo che sia un segreto che c'è il corpo giù in cantina in un tubo per l'animazione sospesa o quel cavolo che è comunque sia si presenta a sorpresa alla sfilata abbraccia in modo molto paterno e molto affettoso il figlio che Adrianna ovviamente è nestra felice e dopodichè va da Audrey a scusarsi per l'accaduto ovviamente non le dice sono io papillonne ho fatto tutto a posto per farti incavolare e accumizzati ma le dice guarda si è trattato di un malinteso ho licenziato personalmente il responsabile del disguido questa cosa la manda in brodo di giugiole perché ovviamente dice licenziato e lei è stra felice infatti lei inizialmente fa un po' la sostenuta però poi lo perdona e qui vediamo lui è deferente nei confronti di lei è molto rispettoso ma non è zerbino come lo è il marito come lo è André quindi la riconosce come quella a cui lui deve la sua fortuna quella che l'ha scoperto però rimane anche se stesso un uomo comunque tutto d'un pezzo severo che non si fa mettere i piedi in testa dagli altri dopodiché le presenta Marinette e le dice che anzi no lei stessa Audrey stessa indovina che il cappello non è opera di Gabriel ma è opera di qualcun altro lui dice si esatto è stata questa giovane ragazza lei di nuovo un po' un po' intimorita però anche Adriana e il padre la spingono a dire con orgoglio che è stata lei è una sua creazione Chloe è già lì che gongola che spera che la madre distrugga questa creazione della sua rivale dicendone di cotte di crude e invece Audrey esplode di gioia dicendo che è fantastico che è un pezzo favoloso che non provava nel guardarlo un'emozione simile da quando aveva scoperto i lavori di Gabriel da quando aveva conosciuto lui che è un grosso complimento anche per Marinette e la invita ad andare a New York con sé dove verrà lanciata la sua carriera di moda perché lei trova che Marinette abbia un grande talento che debba essere incoraggiata spronata e quindi le fa questa proposta tutti felici ovviamente tranne Chloe comprensibilmente e dopo tutto quello che abbiamo visto finora ti viene anche da dire poverina Chloe sta fumando di rabbia ed esplode e dice ma come non mi hai mai portata a me a New York con te non mi hai mai portata insieme a te a vedere dove vivi a vedere dove stai questo lo sto aggiungendo io non l'ha detto lei però cioè è quello il concetto e porti lei che cavoli e la madre ovviamente col tatto di un elefante in armatura da guerra le dice ma porto lei perché lei è eccezionale anch'io sono eccezionale sono tua figlia e lei le risponde e qui proprio non c'è solo un elefante da guerra ma c'è l'intero l'intera guarnigione che passa proprio sopra la povera Chloe calpestandola e dice l'unica cosa che c'è di eccezionale in te e tua madre Chloe sbrocca tira fuori lo scatolino con il miracolus dell'ape e compare Pollen davanti a tutti davanti a Gabriel davanti ai bei genitori di Marinette ma pazienza poverini però non hanno grosse importanza in questo frangente davanti a Marinette davanti ad Adriona Marinette riconosce l'oggetto si tappa la bocca si morde la lingua perché sta per per tradirsi Adriona non sapeva nulla ma chiaramente riconosce che quello è un Quami e così Gabriel Chloe si mette il miracolus si infila il pettine tra i capelli si fa trasformare da Pollen ed evidentemente doveva aver già fatto una prova da qualche parte forse in camera come poco dopo la scena finale dell'episodio di Style Queen per quanto incongruente fosse quel momento e dopodiché se ne va promettendo che avrebbe mostrato quanto poteva essere anche lei eccezionale il padre preoccupatissimo la madre come al solito fredda come il ghiaccio si è giusto un attimo scomposta quando ha visto Pollen ma si è giusto tipo tolta gli occhiali per dire caspita è questa cosa è un insetto dopodiché però se ne va dicendo ma sì nostra figlia cerca sempre di mettersi in mostra Chloe cerca disperatamente qualcuno da salvare ma proprio in quel momento a Parigi non succede un tubo per cui ha la brillantissima idea complimentoni Chloe di creare lei un incidente per poter poi mostrare a tutti davanti alle telecamere che lei è un'eroina e ha salvato un sacco di persone quindi chiama anche Nadia Sciamacca al telefono facendola venire con tutta la troupe dopodiché si infila in metropolitana e praticamente immobilizza il conducente della metro metro sulla quale tra l'altro stavano viaggiando sfiga delle sfige Marinette con i suoi genitori chiaramente il piano di Chloe fa schifo non solo per la pensata ben poco eroica di mettere in pericolo delle persone per per farsi bella davanti a tutti ma anche perché si infila nella cabina del conducente facendosi perfettamente vedere mentre lo paralizza cioè lui la vede che è lei che lo sta paralizzando per cui dopo che lei avrà salvato tutti potrà comunque dire no questa pazza psicopatica è entrata nella cabina di comando della metro e mi ha immobilizzato fatto sta che tra l'altro nell'immobilizzarlo lui cade all'indietro e tira al massimo la leva dell'acceleratore così facendo neanche con la sua forza da supereroina da trasformata Chloe riesce a bloccare il treno quindi si ritrova praticamente bloccata di fronte al muso del treno mentre tenta disperatamente di fare leva con i piedi per terra senza riuscire minimamente a rallentarlo intervengono Ladybug e Chat Noir ah poco prima abbiamo un momento un dialogo dentro la metropolitana dove Marinette è tutta contenta anche il padre e la madre sembrano dell'idea di trasferirsi a New York se lei deciderà di accettare l'offerta di Audrey Bourgeois però Ticchi le ricorda che Ladybug deve restare a Parigi se lei dovesse andarsene Ticchi dovrà scegliere un altro partner un altro portatore del miracolo della coccinella per continuare a fermare Papillon e niente comunque sia intervengono Ladybug e Chat Noir e riescono tutti insieme a fermare il treno e a salvare Chloe che sarebbe morta spiaccicata a quel punto perché non riusciva neanche a staccarsi dal muso del treno e arriva finalmente Nadia Shamak con le telecamere Chloe tenta di farsi bella e dire che ha salvato tutti quanti ma Ladybug dopo che il conducente si è ripreso e ha lui fermato poi il treno del tutto le dice chiaramente guarda che lo sappiamo che sei stata tu e viene ripresa dalle telecamere tra l'altro mentre le dice questa cosa e non solo ma Nadia Shamak ci butta il carico da 90 con un tablet sul quale si vede in collegamento la madre di scusate la madre di Chloe la quale dà un'altra ammazzata alla figlia dicendo che ha dimostrato per l'ennesima volta di non avere niente di eccezionale e gettandola ancora più nello sconforto Ladybug cerca di farsi ridare il Miraculous ma Chloe si rifiuta e approfittando di un momento di distrazione di lei e di Chat Noir scappa via facendo perdere temporaneamente le proprie tracce ora lei ha usato il suo potere speciale quello appunto della puntura che immobilizza l'avversario e quindi sta per ritrasformarsi corre a casa e prima che Ladybug e Chat Noir possano sopraggiungere e bloccarla viene raggiunta da un'acuma Gabriella Greste si era già preparato e non appena aveva visto Pollen uscire dalla scatolina del Miraculous aperto da Chloe ha ritrovato la speranza che aveva perso il danno maggiore fatto da Chloe in questo episodio non è di farsi akumatizzare non è di fare di creare quell'incidente quel mezzo incidente durante la metro dove poteva farsi male qualcuno ma ahimè è quello di ridare speranza a Gabriella Greste Gabrielle ci aveva rinunciato Gabrielle dopo il fallimento di Style Queen stava per mollare tutto vedendo Chloe Bourgeois con un Miraculous e sapendo chi è lei sapendo quello che aveva combinato fino a quel punto ha detto qua c'è del materiale su cui lavorare e si è fatto trovare pronto nel suo covo ritrasformato di nuovo si è rimesso il suo Miraculous e quindi Chloe viene trasformata da Queen Bee in Queen Wasp da Ape Regina a Vespa Regina lo stesso costume con i colori un po' invertiti qualche dettaglio modificato e al posto della trottola Queen Bee ha una sorta di piccola trottola gialla come arma un nugulo di vespe fatte in brutta computer grafica veramente il resto del cartone è bellissimo secondo me fatto molto bene a computer grafica queste api erano queste vespe erano terribili comunque sia uno sciame di vespe che le permette di sollevarsi in volo sollevare altri oggetti queste vespe ruotano ad esempio attorno alle macchine e lanciano però non è niente di che come avversario è molto forte con degli ottimi riflessi riesce più di un'occasione ad afferrare il bastone di Chat Noir che la sta attaccando e a lanciarlo via o comunque a bloccare gli attacchi degli avversari però alla fine viene sconfitta con relativa facilità il siccome l'acume era entrato nel Miraculous c'è bisogno proprio del cataclisma di Chat Noir per romperlo perché ci dice Marinette i Miraculous sono fisicamente indistruttibili e c'è questa scena di nuovo molto toccante molto triste sono sott'acqua perché hanno attirato Queen Wasp sott'acqua per levare di mezzo le sue vespe per non dover affrontare anche le sue vespe Chloe si detrasforma si deacumatizza e si detrasforma e ci sono i pezzettini del Miraculous dell'ape di questo pettine che fluttuano nell'acqua attorno a lei e lei li afferra con un gesto della mano uno sguardo molto triste e li porta a sé stringendoli al petto come se avesse perso qualcosa di estremamente prezioso e quel Miraculous per lei contava tantissimo era la sua occasione di dimostrare non solo agli altri ma anche a se stessa probabilmente di valere qualcosa di essere qualcuno anche lei questa ragazza non ha amici non ha neanche una vera famiglia perché ha una madre completamente assente e un padre che non l'ha veramente cresciuta le ha la sola ricoperta di regali viziandola tantissimo ma la cosa più vicina ad una figura paterna che lei abbia mai avuto è stato il maggiordomo Jean come si chiama che comunque in quanto maggiordomo anche lui ubbidiva un po' tutti i suoi ordini per cui non è neanche stato non è stato comunque un vero genitore però quanto di più vicino le ha avuto questa ragazza probabilmente non ha alcuna stima di sé si comporta come si comporta tentando di scimmiottare la madre in ogni movimento in ogni atteggiamento per farsi notare da lei per ricevere il suo affetto e anche per compensare quelle che sente essere le proprie mancanze se lei appunto non ha mai ricevuto l'affetto di sua madre sentirà di non valere niente che forse sua madre non le dà affetto perché lei non vale niente e quindi di conseguenza si comporta in questo modo arrogante altezzoso sperando di valere sperando di valere invece qualcosa come la madre e il Miraculous poteva essere per lei l'occasione di dimostrare a se stessa prima di tutto anche prima che agli altri di essere qualcuno tenta di pregare Ladybug ovviamente il Miraculous poi viene messo a posto dalle coccinelle magiche quando Ladybug lancia l'oggetto focus del Miraculous focus della Kicharm prega Ladybug di concedere un'altra possibilità però lei ovviamente è removibile specialmente dopo il casino che Chloe ha combinato tuttavia a differenza di Audrey che di nuovo tramite tablet ne dice di cotte di cruda la figlia Ladybug è Ladybug quella è la ship Chat Noir e Ladybug cercano di avere per lei delle parole di conforto sono molto gentili e lei le fa capire che sarebbe così come lei stessa ha sbagliato a perdere il Miraculous tutti facciamo degli errori e dice io ho sbagliato a perderlo tu non commettere l'errore di non ridarmelo e lei capisce inizia a mostrare l'atteggiamento da eroina che poi le servirà più avanti e restituisce il Miraculous così si conclude o meglio non proprio non si conclude così Queen Wasp perché prima della fine dell'episodio vediamo Natalie e Gabriel in casa Gabriel riemerge dal nascondiglio detrasformato e Natalie gli dice mi sembrava di aver capito che ci avessi rinunciato che avessi deciso di mollare tutto e lui dice no cioè si ci avevo pensato ma vedi lei mi manca troppo e adesso con quello che è successo oggi con Queen Wasp eccetera con Chloe mi sono reso conto che Ladybug e Chat Noir hanno commesso degli errori ne commetteranno ancora e prima o poi riuscirò a sconfiggerli grazie prima o poi commetteranno il passo falso che mi permetterà di sconfiggerli lei inizialmente sembra come sempre fredda deferente dice molto bene se ne va esce dalla stanza e la vediamo però improvvisamente triste segno di nuovo secondo me che lei è innamorata di Gabriel e un po' ci sperava che lui volesse lasciar perdere tutto questo e magari andare oltre dimenticarsi della moglie perché evidentemente o è deceduta oppure è in uno stato irrecuperabile e magari chi lo sa si facesse una nuova vita con lei secondo me Natalie sperava questo appare in ogni caso molto triste per questa decisione di Gabriel di andare avanti di continuare e a questo punto passiamo al terzo e ultimo episodio di questa trilogia continuo a considerarla tale perché secondo me sono tutti e tre legati questi episodi da un filo conduttore unico che è Chloe che diventa finalmente quindi a tutti gli effetti diventa di ruolo ecco l'episodio si apre in maniera un po' bizzarra perché vediamo Chloe che tenta di propinare alla sua classe un documentario girato palesemente da lei con come unica attrice protagonista lei in diversi ruoli la professoressa Bustia aveva assegnato il compito di parlare di una figura importante della storia di Francia e l'ho ovviamente deciso di parlare di se stessa in quanto supereroina nonostante ciò che lei ha fatto i casini che ha combinato nella puntata precedente siano stati ripresi dalle telecamere di Nadia quindi dalla televisione lei stessa l'aveva chiamata e nell'epoca moderna di internet ti puoi aspettare che un video del genere diventi virale lei che viene cazziata da Ladybug in metropolitana la quale dice a tutti hai fatto hai combinato tu questo casino hai bloccato apposta il controllere il macchinista del treno hai messo apposta in pericolo queste persone per farti bella e lei tra l'altro risponde davanti a tutti e allora comunque sia li abbiamo salvati tra l'altro piccolo passo indietro c'è un errore nel doppiaggio italiano dell'episodio precedente Queen Wasp proprio in quella scena quando hanno appena fermato il treno e Ladybug tenta di farsi ridare ridare scusate il Miraculous Chloe le dice nella versione italiana scordatelo Marinette qualcosa del genere comunque la chiama Marinette ovviamente lei non può sapere che è Marinette e non può averlo detto di fronte alle telecamere per di più però fatto sta che a quanto pare nel doppiaggio italiano hanno commesso questo errorone non so come gli sia venuto in mente di farglielo dire perché non c'è nella versione inglese ovviamente non c'è nella versione francese non si sa ad ogni modo Chloe propina alla classe questo documentario tentando di convincerli che quella travestita da Ladybug sia la vera Ladybug praticamente ci sono in questo filmato lei con un finto costume da Queen Bee e poi lei con un costume da Ladybug però quella nella sua mente bacata dovrebbe essere la vera Ladybug o meglio dovrebbe essere credibile ora finalmente in questa serie qualcuno inizia a levarsi il prosciutto dagli occhi se nella puntata non ricordo quale oddio no nella puntata di anti-bug della prima serie mi sembra Nadia Shamac riusciva a scambiare Chloe Bourgeois senza parrucca ma col costume da Ladybug per la vera supereroina adesso finalmente Alia si alza al banco e dice ma porco cavolo ce lo aggiungo io ma quella sei tu con un costume da Ladybug non ti sei neanche presa la briga di metterti una parrucca quella sei tu sono i tuoi capelli e Chloe è sempre più in delirio totale perché come fai a pensare che la gente ci possa cascare in questa cosa cerca di convincerli che no no quella è la vera Ladybug si è tinta di biondo in onore mio ovviamente e va bene risultato tutta la classe la piglia in giro Alex addirittura esclama ad alta voce hai avuto i superpoteri per 5 minuti e hai fatto un totale disastro Alia addirittura manda credo che si possa col bluetooth non ho idea però manda e fa uno swipe dal suo cellulare e manda l'immagine del video originale che era stato fatto in metropolitana dopo l'incidente sullo schermo della classe vabbè e tutti quanti rivedono la scena in cui Ladybug dice a Queen Bee sei stata tu hai provocato tu l'incidente Chloe si arrabbia tantissimo Marinette sfugge una battuta perché Chloe dice beh allora se fate così noi vi faccio vedere il resto del documentario e dice è meno male involontariamente perché poi si tappa la bocca però esplode a ridere tutta la classe e Chloe decide che è tutta colpa di Marinette se ne va via e tenta insieme alla madre di convincere André il sindaco a far chiudere la scuola e bandire Marinette dalla città e spellere una ragazzina di 14 anni da Parigi sulle basi di che cosa finalmente c'è un guizzo di realismo lo so che non dovrei aspettarmi se sembra un controsenso aspettarsi il realismo da un cartone di questo tipo però per certi versi cioè questo è un cartone dove se uno cade da una certa altezza che cade per terra non rimbalza come Max Bunny si spiaccica quindi ci sono delle regole anche qui come in molti altri cartoni qui finora era mancato questo tipo di realismo e finalmente lui risponde no questa cosa non la posso fare mentre già non avrebbe potuto licenziare Roger nella puntata di Roger Cop perché il sindaco non licenzia i singoli poliziotti così personalmente non può farlo però vabbè finalmente c'è un po' di realismo dicevo André gli fa notare che non può fare tutte queste cose al massimo potrebbe tenere la scuola chiusa una settimana ma poi no e invece completamente staccate dalla realtà Audrey e Chloe si incavano ancora di più dicono benissimo allora se non sei in grado di fare questa cosa e noi ce ne andiamo a New York di nuovo la minaccia di andarsene a New York André è sempre più zerbino cerca di pregarle in tutte le salse di non andarsene ma loro due sono irremovibili alla fine tenta il tutto per tutto e questa scena è molto emblematica perché è quello che questo che quest'uomo deve aver fatto per 14 anni di fila con questa bambina di fronte al alla crisi di fronte a una situazione che non sapeva come risolvere tenta di viziarla nuovamente e estrae dalla tasca un l'ennesimo regalo costoso una cover da cellulare dice ricoperta di diamanti e sembrerebbe essere effettivamente così perché non riusciamo neanche a vederla da tanto che emana luce propria come un piccolo sole però stavolta non attacca Chloe se ne frega anche del regalo costoso neanche lo prende se lo intasca glielo risbatte via e lei e la madre partono in elicottero André disperato ovviamente viene raggiunto da un'acuma e si trasforma in maledictor o maledictator perché sarebbe il dittatore malvagio il gioco di parole sarebbe quello però credo che in italiano sia rimasto il maledictor correggetemi se sbaglio il suo potere essenzialmente è quello di costringere non proprio costringere le persone a fare quello che vuole lui anche se di fatto finisce per realizzarsi così Papillon lo dice lo mette giù in un'altra maniera gli dice tutto ciò che tu dichiarerai si realizzerà quindi tutto ciò che tu vorrai potrà essere fatto nella pratica lui crea una sferetta di luce dalle dita e colpisce in genere le persone non mi pare che lo utilizzi sugli oggetti e queste persone improvvisamente cambiano di personalità fanno esattamente quello che voleva lui fa atterrare in questo modo l'elicottero che stava trasportando Chloé la madre all'aeroporto a piccola parentesi poco prima Chloé nel tentativo di ottenere un qualche tipo di vendetta sui suoi compagni di classe si presenta in elicottero sopra il cortile della scuola lanciando foto photoshopate di se stessa con sullo sfondo la statua della libertà dicendo addio sfigati me ne vado a Parigi con mia madre e me ne vado a New York con mia madre tutti quanti raccolgono queste foto le guardano si guardano preoccupati ma come? allora Chloé parte ma sul serio? e non torna più? ed esplodono tutti di gioia cioè parte una festa c'era evidentemente qualcuno già pronto con i cannoni spara coriandoli perché iniziano a volare pezzettini di carta colorati ovunque parte la musica si abbracciano tutti dagli studenti al preside col bidello che se non sbaglio è il padre di Milen festeggiano tutti è una scena esilarante effettivamente l'unico non contento è Adrion ovviamente perché per lui sebbene lui sia ben conscio di che caratterino abbia Chloé per lui è stata l'unica amica d'infanzia e quindi ce l'ha comunque un po' nel cuore e a quel punto Marinette vedendo quanto sia triste lui per la partenza di Chloé sentendo anche il suo discorso dice mi dispiace che lei se ne sia partita arrabbiata e triste e non è vero che lei non serva a niente tutti hanno uno scopo tutti servono a qualcosa e lei un po' se ne pente Marinette si pente anche inizia a farsi un po' troppe colpe perché dice si è anche un po' colpa mia se lei ha deciso di andarsene perché ho detto quella cosa in classe figlia mia quella ragazza se l'hai cercata anche tanto e tu non volevi neanche dirlo ad altavoce quel commento che hai fatto che comunque era comprensibilissimo quella ragazza si è resa forzatamente ridicola davanti a tutti cioè io quando ho visto quella scena all'inizio del documento ho detto cosa diavolo hai nella testa Chloé cioè va bene tutto ma sai che sei stata ripresa dalla televisione tutti quanti sanno che cavolo è combinato vabbè comunque si chiama Marinette inizia a farsi le sue solite fisime mentali più esagerate del solito e che cosa succede appunto Maledictor fa atterrare l'elicottero Odri con il suo solito modo di fare inizia a dirgli ah ti sei fatto acumatizzare come tutti gli altri guarda che non sei comunque non sei né interessante né né tantomeno abbiamo cambiato idea e lui la la blocca subito e le ordina di diventare la classica mogliettina devota perfettina che non abbandonerebbe mai il marito eccetera lei lì si butta al collo inizia a baciarlo nel disgusto più totale della povera Chloé che evidentemente non ha mai visto una scena del genere e non è abituata però Chloé ha la prontezza di riflessi di sgattaiolare via e far perdere le proprie tracce si infila di nuovo in metropolitana stavolta c'è una scena del tipo oh mio dio che puzza di poveri perché fa due scalini e sente un tanfo che solo lei sente perché passa altra gente vestita bene non ha di questi problemi e in ogni modo riesce a far perdere le proprie tracce scappa via la ritroveremo più tardi a casa propria che cerca di nascondersi dal padre vediamo un po' poi cosa succedeva Ladybug e Chanoir intervengono perché Maledictor per Papillon scusate convince Maledictor a tornare a scuola al liceo Françoise Dupont e a iniziare a distruggerlo perché è questo che Chloé voleva dice vedrai che in questo modo tua figlia tornerà da te in realtà ovviamente vuole solo spingerlo a far uscire allo scoperto i due eroi che puntualmente si presentano iniziano ad affrontarlo Maledictor abbastanza forte nel corpo a corpo riesce a tenerli a bada entrambi anche se non è particolarmente agile però è piuttosto duretto è resistente riesce a parare i colpi ed è a quanto forte solleva senza sforzo una panchina con una mano e tenta di spiaccicare non ricordo se Chat Noir o Lady Baga no Chat Noir a quel punto Marinette lancia il Lucky Charm il quale per l'ennesima volta le indica di andare dal Maestro Fu però per l'ennesima volta le lo indica nella maniera più criptica possibile ora io non dico che devi far comparire una foto del Maestro Fu perché potrebbe Papillon in qualche modo potrebbe vederla e dire ah cavoli il nuovo maestro di cinese di mio figlio è il guardiero di Miracle però una volta fai uscire il martelletto del Gong un'altra volta fai uscire il pallottoliere giustamente Chat Noir dice vabbè intanto che tu ci ragioni su e capisci cos'è questo ornese io vado a tenere occupato quel tizio neanche mezzo secondo dopo Ladybug si rende conto di che cosa voglia dire quell'aggeggio che ce lo sia andate dal Maestro Fu però è troppo tardi e Maledictor riesce a colpire Chat Noir con il proprio potere e a farlo a convincerlo di essere un gatto Chat Noir inizia a comportarsi come un gattino finendo poi in braccio a Audrey che se lo coccola tutto e lui inizia a fare anche le fusa però per fortuna è ancora è ancora capace di riconoscere i nemici e quando Maledictor si avvicina per cercare di togliergli l'anello reagisce soffiando come un gatto e snudando le artiglie al che nonostante Papioni insista per levargli subito l'anello Maledictor invece cede alle preghiere della moglie e che gli dice teniamolo ancora un po' con noi e lui convince Papioni e dice ormai è inoffensivo aspettiamo che Ladybug ritorni e prendiamo poi due piccioni con una fava Ladybug arriva dal Maestro e qui il Maestro Fu dice il Lucky Charm non sbaglia mai lui prima la rimprova ma come hai lasciato Shanor da solo e dice il Lucky Charm ha detto di venire qua e lui ah beh ok allora va bene il Lucky Charm non sbaglia mai e questo andrebbe a confermare la mia teoria di prima ma vedremo vedremo in futuro se verrà ufficialmente confermata di nuovo Marinette prende il Miraculous dell'ape anche se è un po' titubante lo prende poi dice a se stessa che cavolo sto facendo sto veramente per ridarlo a lei però Ticchi le dice se senti dentro di te che è la cosa giusta da fare vai avanti così vai tranquillo e falla e lei lo fa prende il Miraculous dell'ape rintraccia Chloé sul terrazzo di casa sua dell'hotel lei è appena riuscita a eludere il padre che è ritornato per cercarla però lei è riuscita sempre a nascondersi e qui abbiamo una bella scena non commovente stavo per dire commovente però insomma non è esattamente così però oddio sì lo diventa perché Ladybug cerca di di farsi dire esattamente come mai il padre è stato accumizzato e lei inizialmente dà tutta la colpa a Marinette e qui si vede c'è una scena abbastanza carina la Ladybug che cerca di trattenersi mentre Chloe ne dice di cotte e di crude su Marinette la sua cerima rivale è cattiva ce l'ha con me e c'è Ladybug di fronte a lei che fa e poi ripiglia a parlare perché se no stava per esplodere in faccia e dargliene e darle quattro schiaffi riesce a convincerla ad ammettere che non è colpa di Marinette che è stata che è lei che ha fatto i capricci è fatto ha gettato nello sconforto il padre il quale è stato per questo motivo accumizzato e Chloe finalmente dice è stata tutta colpa mia sono stata io non avrei dovuto fare questo non avrei dovuto fare quest'altro però io volevo andarmi e volevo comunque partire perché qua io non ho niente non ho nessuno non ho amici nessuno mi vuole bene in questa città oltretutto appunto dopo quello che ha fatto aggiungere io è probabile che l'opinione pubblica parigina ma anche un po' di tutta la Francia ne stia dicendo di cotte di crude di questa ragazza perché già è responsabile per metà delle acumatizzazioni avvenute nell'arco di tutta la saga di Miraculous e in più ha fatto questa serie di cavolate a questo punto Marinette pensa che lei sia pronta e c'è la consegna ufficiale con la classica scena con questa ripresa di Ladybug di fronte che deve essere un'immagine riciclata ma con uno sfondo diverso secondo me perché ha un non so che di differente rispetto all'animazione dell'altra scene ogni volta che lei consegna lo scatolino a qualcuno con questo gesto ha un non so che di differente e niente le due partono all'attacco per sconfiggere Maledictator qui c'è un altro momento di realismo tra virgolette perché finalmente vediamo che il resto della città cerca di reagire alla acumatizzazione d'altra parte il sindaco in persona è stato trasformato e qui vediamo Roger a capo di un di un gruppo di poliziotti in assetta antisommossa con i caschi e con gli scudi che circondano il municipio entrano dentro sfondando la porta arrivano fino all'ufficio di Maledictor però ovviamente vengono poi facilmente controllati a quel punto lui si sposta in cima al municipio con la moglie e con Chat Noir e tutti i vari poliziotti con lo scudo pronti a proteggerlo di fatti Queen Bee e Ladybug non riescono a penetrare questa difesa i poliziotti che evidentemente nel tempo libero fanno anche gli acrobati e i ginnasti riescono ad assumere le formazioni più improbabili neanche fossero delle cheerleader e a bloccare qualsiasi attacco con questi mega scudi a questo punto Ladybug lancia di nuovo il solo Lucky Charm e ottiene un favoloso puntatore laser col quale inizia a far correre il povero Chat Noir gattificato avanti e indietro Chat Noir senza volerlo butta giù dal tetto probabilmente uccidendoli ma fa niente tutti questi poveri poliziotti mentre Maledictor era impegnato a creare una gigantesca sfera Genki Dama o comunque lo sembrava in realtà era il suo solito potere però anziché una sferetta di luce piccola così era una sfera gigante Papillon gli aveva detto devi fare di più così non ti sta difendendo bene ma non li sconfiggerai e lui ha l'idea di lanciare una sfera ancora più grande sull'intera città di Parigi controllando tutti ora fermiamoci un attimo perché questo sarebbe potuto essere l'ennesimo errore di Papillon a cui accennavo prima solo ancora peggiore era già successo una volta in un'altra puntata che Papillon commettesse un grave errore e per poco non ci lasciasse le penne qui che cosa sarebbe successo se Maledictor fosse riuscito a lanciare quella sfera di quelle proporzioni su un'intera città poniamo il fatto che avrebbe che avesse colpito l'intera città di Parigi il covo di Papillon è sicuramente a Parigi ed è molto probabilmente in centro all'interno nei sotterrani della Villa Greste o nella cupola sopra probabilmente nella cupola sopra la Villa Greste è comunque in centro a Parigi sarebbe stato colpito anche lui e quindi finito sotto il controllo di quello che lui avrebbe dovuto controllare oppure siccome è al chiuso non sarebbe stato colpito questo non è chiaro però visti gli errori che lui ha commesso finora non mi sarei stupito se il potere di Maledictor avesse colpito anche le persone all'interno degli spazi chiusi cioè lui molto probabilmente è nella cupola che c'è in cima alla villa non ci sono molte cioè è strano come ci arrivi perché prima scende poi sale però molto probabilmente lì l'acqua poi quando esce esce a cielo aperto quindi non può essere nel sotterraneo dove si trova anche la moglie di Emily boh comunque sia per fortuna non ci riesce perché appunto Ladybug riesce a utilizzare Chat Noir gattificato per liberarsi dei poliziotti e dei loro scudi e a quel punto quindi a gioco facile raggiunge il padre che non si può muovere impegnato a creare questa grossa sfera lo paralizza e gli levano la fascia a tricolore dentro la quale c'era l'acuma tutto torna normale e c'è un'altra scena secondo me toccante perché Maledictor e Odri ritrasformati tornati normali vengono posati dalle coccinelle per strada non vengono lasciati in cima al municipio e Odri inizia subito a litigare a prendere a male parole il marito a dire lì eh ma che cosa è successo sicuramente è stata colpa tua di qua di là vediamo i tre eroi che scendono a terra e Queen Bee che si gira verso i genitori un po' in lontananza e li vedendoli litigare e li guarda con sguardo triste è un secondo neanche però è significativo secondo me chissà quante volte li ha visti così e niente dopodiché Chloe a questo giro è diventato ormai l'eroina che sarebbe dovuta di venire e senza bisogno che le venga neanche chiesto a giochi finiti si toglie il Miraculous e lo restituisce a Ladybug dopodiché va a interrompere il litigio dei genitori dicendogli semplicemente con voce secondo me molto tenera andiamo a casa e con questo si conclude quello che era l'arco di redenzione di Chloe poi c'è un'altra bella scena finale con Marinette che convince Chloe a tornare a scuola dove stanno ancora festeggiando ma a questo giro non festeggiano più la partenza di Chloe festeggiano Queen Bee che stavolta ha effettivamente salvato Parigi ha effettivamente aiutato Ladybug e diciamo in questo modo lei un po' si riappacifica con il resto della scuola con il resto dei compagni anche se è sempre la solita fa sempre l'altezzosa sfoggia la sua cover di telefono con diamanti che evidentemente poi alla fine ha accettato si bulla sempre un po' e ormai lei è ufficialmente Queen Bee ma anche all'interno del cartone per tutti quanti per l'opinione pubblica la sua identità non è segreta a differenza di quella degli altri portatori di Miracolus infatti c'è una scena molto carina dove scusate dove Alia si accosta a Marinette che stava dicendo beh insomma le diceva ad Adriana è stato giusto fare una festa ha salvato Parigi e lei col bicchierino di plastica delle feste con dentro la fanta con era di sufficienza però un pelino risentita sotto sotto Alia gli fa anche Reina Rouge e Carapassa hanno salvato Parigi il generale e nessuno gli ha mai fatto una festa e Marinette gli fa perché non conosciamo le loro identità segrete mentre nel caso di Queen Bee sappiamo chi è e questa secondo me sarà una cosa importante dalla terza stagione in poi non credo che emergerà nel finale di stagione non credo che verrà utilizzata in maiura ma il fatto che a differenza di tutti gli altri l'identità segreta di Queen Bee non è segreta tutti sanno chi è e in più non è neanche una tizia qualunque ma è la figlia del sindaco che più volte sarà finita sui notiziari perché avrà combinato qualche casino al di là delle acumatizzazioni ma anche prima dell'arrivo di Papillon questa ragazzina sarà finita in qualche modo sui giornali nella cronaca perché il padre avrà fatto qualche cosa di semilegale per accontentare un suo capriccio avrà licenziato un tizio fatto chiudere un negozio truccato una qualche gara per far vincere la figlia questa secondo me sarà una sottotrama che rivedremo nella terza stagione Papillon non potrà non approfittarne non conosce l'identità segreta di tutti gli altri e quindi non può sfruttare eventuali amici parenti familiari che è la stessa cosa per farli uscire allo scoperto per ricattarli eccetera Chloé Bourgeois no questo è il il grande dilemma dei supereroi fin dai tempi della Marvel non tanto della DC Comics la DC Comics mi pare ci fosse arrivato un po' dopo a questo tipo di di problemi di dilemmi i supereroi Marvel fin dall'inizio ce l'hanno avuto l'Uomo Ragno aveva il problema di mantenere la sua identità segreta perché già suo zio ci aveva lasciato le penne non voleva che ci rimanesse anche la zia o gli amici eccetera si rendeva conto che quello era un grosso punto debole Papillon secondo me cercherà di sfruttarlo nella terza stagione cercherà di sfruttare questa cosa e potrebbe rivelarsi un problema comunque sia questo era il mio commento non è anche riassunto a queste tre puntate mi rendo conto adesso guardando nel counter che questo video è durato un'ora e mezza è il triplo del video commento a a Catalyst il che ci sta perché sono stato circa una mezz'oretta a parlare 36 minuti a parlare di Catalyst questi erano tre episodi da riassumere e commentare quindi ci stiamo dentro direi e niente io sono stracontento se avete anche solo deciso di aprire il video figuriamoci se poi siete arrivati fin qui io vi abbraccio fortissimo e vi rimando spero fra una settimana non so se il 3 di novembre uscirà o meno Maiura altrimenti comunque a un altro video il prossimo che farò al di là del finale di stagione sarà sicuramente l'episodio di Frozer anche quello secondo me è stato molto bello e c'erano delle cose molto interessanti da di cui parlare secondo me e niente quindi di nuovo un abbraccione da Orkprof ci rivediamo al prossimo video guardate Miraculous ciao